Ok, siamo live. Buongiorno a tutti, ben trovati, buongiorno a Federico Pistono e grazie Federico per aver chiesto questo confronto finalmente per rispondere a un po' di domande. Se tu sei d'accordo io dico noi ci siamo sentiti 30 secondi fa quindi ti do atto che le domande non me le chiese prima anche perché le conoscevi già in buona parte. Ti trovi? Quindi parto così, il format è molto semplice, io ti farò delle domande, tu risponderai poi come ti ho detto prima, tu per lunedì hai detto che ci devi lasciare quindi insomma la live durerà un po' meno di un'ora, abbiamo circa 40 minuti che cerchiamo di sfruttare al meglio. La prima domanda che mi è da farti, una domanda così per riscaldarci, cosa fa un futurista e chi è per te, visto che tu mi dici che scrivi che i tuoi amici definiscono così, chi è per te uno psiconauta? Ma un futurista sono i futuristi alla Marinetti, no? Sono gli italiani che hanno fatto la rivoluzione culturale diciamo all'inizio del novecento. Il futurist che è un po' per differenziare questo termine è quello che mi ha dato Barbara Carfagna quando mi ha chiesto di fare un programma codice insieme a lei. Lei ha tirato fuori questo termine e niente. Quindi te l'hanno dato diciamo questa difizione e poi diciamo che a te è piaciuta però, cioè ti ci sei ritrovato. Ma sì, Barbara è una grande professionista, ha detto vorrei darti questo appellativo, allora io ho detto ok e poi dopo è rimasto e ho detto vabbè allora lo uso. Senti ma nel tuo video con l'hater, che poi io ti ho contestato per me quello non è un hater, è uno che aveva dei dubbi su di te, tra l'altro Tommaso si è poi palesato proprio stamattina. Cioè io ho fatto una live e ho detto Tommaso fatti vedere che qualcuno diceva è un fake, è un fake e io dissi guarda guarda se è un fake cazzo Federico ha pagato un attore bravissimo perché no sembra molto cioè sembrava effettivamente autentico e lui mi ha confermato che in realtà non sapeva di essere registrato ma si può registrare senza chiedere l'autorizzazione e tu gli hai chiesto, gli hai detto senti. Poi gli ho chiesto l'autorizzazione. Esatto, no poi tu gli hai detto posso dire il tuo nome, lui ha detto preferisco di no e tu diciamo hai rispettato questa cosa ma tra le tante cose che dici in quella live dici io non vendo corsi, non vendo corsi online ma quindi Maverick ci spieghi che cos'è per te Maverick cioè non è un corso, cosa? È un club privato. È un club privato ma in questo club privato cosa fai? Ci sono delle interviste tue, leggevo no? Vedevamo, insomma anche chi ci ha partecipato mi ha raccontato, ci sono intanto ci sono 182 persone live, quindi come vedi c'erano in tanti che volevano questo confronto come ti avevo già detto, quindi che cos'è Maverick? Cioè descrivimi Maverick in 60 secondi, è un club ok e che cosa si fa? Cioè non è un, quindi non lo definiresti un corso di formazione, non vivi di corsi di formazione tu, fermo il senso che non è che è criminale vendere i corsi di formazione però per capire. È un'attività perfettamente lecita. Assolutamente. Io ho fatto un'esperienza ormai decennale con le start-up, prima ne ho fondate con famose esperienze di fallimenti e altre cose, poi ho fatto lavoro come professionista che insomma avevo la mia expertise, ho scritto questo libro che ha fatto successo internazionale sul futuro del lavoro, sulla robotica e poi ho lavorato con grandi aziende e poi sono diventato engine investor. Allora, tante persone mi chiedevano consiglio sulla propria azienda, la propria start-up e io non avevo il tempo di fare il classico caffè con tutti. Quindi hai messo a sistema sta cosa. Quindi un giorno ho ottenuto una lezione alla Bocconi, perché ho ottenuto anche lezioni all'università, anche dalla LUIS a Roma e era venuto un ex studente della Bocconi a vedere la mia lezione, che era proprio su start-up financing. Ok. Questo qui adesso fa un imprenditore, insomma un imprenditore di successo con diverse aziende e mi ha detto, era una bella lezione, perché non apri una tua scuola? E allora lì ho fatto due più due, ho detto, ricevo tutte richieste, tutte queste richieste di persone che mi chiedono di dargli consiglia, cosa che non voglio fare, uno a uno. Questo qua mi dice, ma tu spieghi bene, sei bravo, perché non fai una tua scuola, ho fatto due più due e ho detto, ok, potrei fare un club privato dove faccio entrare persone che sono o imprenditori o professionisti che vogliono diventare imprenditori, che vogliono consigli per capire come usare le tecniche che ho imparato io in Silicon Valley nella loro azienda e faccio un club privato dove metto delle lezioni mie, dove spiego queste cose, metto degli esercizi, faccio delle live. Delle interviste, immagino, delle interviste anche che hai fatto, tu dicevi, c'è scritto sulla pagina con personaggi importanti, le tue città, sono altri che conoscevo, altri investitori cui ho investito, con cui ho fatto altre cose, e niente, insomma, ho creato questo club privato. Ma quindi Federico, qual è attualmente, qual è il tuo core business? Cioè, Federico Pistono, di cosa vive? Cioè, qual è il suo core business? Qui tu vivi di investimenti e riesci, diciamo, a vivere professionalmente di investimenti. Quindi sei proprio un investitore professionale, che leggo, e qui mi dai l'assist per l'altra domanda, tu sei il fondatore di 10X, 10X Investor Club, che è un syndicate, che investe in aziende early stage. E hai finanziato questo syndicate, oltre 10 startup, tra cui società di intelligenza artificiale, io leggo quello che è scritto sul sito, su Maverick, dispositivi medici, prodotti nutraceutici e servizi finanziari. Assoluto che tu, il tuo core adesso, quindi, non è la formazione, è fare... No, no, facciamo chiarezza. No, c'è un piccolo caveat, non hai capito bene quello che c'era scritto. Io ho fatto questi investimenti negli ultimi anni, da solo. Il 10X Investor Club esiste dal luglio dell'anno scorso. E tu hai scritto che l'hai fondato tu, infatti, e che... L'ho fondato io, l'ho fondato io a luglio, ma avevo già investito in più di 10 startup per conto mio con i soldi miei. Ah, allora, ti assicuro, non l'ho capito, ma io ho fatto un copia e incolla. Non è una sintesi. C'è scritto. Non è una sintesi. Io ho investito a livello individuale, come Angel Investor, negli ultimi 5, 6, 7 anni, in, non so, più di 10 startup. Ok, quindi tu personalmente, a livello personale. A livello personale. Ok. E ora, non è che ti dico dammi il nome, tu te dici 6 startup, però se mi fai una top 3, top 4, le quattro startup dove hai investito, se più o meno quanto hai investito e se hai già fatto qualche exit, con che moltiplicatore nel caso, questo sarebbe interessante vedere, no? Certo. Cita me due, tre. Sì. Una è Camom. Una la citassi già, esatto, Camom. Sì. Dove hai investito quanto? Non ricordi? Diciamo, una cifra consistente. Ero il lead investor di un round da 800 mila euro, quindi sono quello che hai investito di più di tutti, in quel round lì. Ok. E questa però ancora, cioè non ci sono ancora startup dove tu hai fatto exit? Sì, sì, c'è. Ho fatto appena adesso un exit da 70 milioni di euro. Cioè, fammi capire, la exit che hai fatto da 70 milioni di euro non è che tu hai guadagnato 70 milioni di euro, è la exit totale. Quindi quanto avevi, che quota avevi in questa, cioè l'azienda è stata venduta a 70 milioni, ok? No, io la faccio meglio. Ah, ok. E tu quanto hai realizzato da questa cosa? Un buon moltiplicatore. Un buon moltiplicatore. Però, diciamo, nel taglio non lo vuoi dire. No, perché sai, ti spiego, vedi tu, mi hai preso subito male dalle prime volte. Allora, a me, e lo dicevo anche prima, no? Chi diceva, sarà uno scontro. Hai detto, ragazzi, se sarà uno scontro, dipenderà più da Federico che da me. Io non parto mai con lo scontro. Io parto sempre che devo cercare di capire. Quindi, tu dici, in quella lunga replica che ho letto dove ti assicuro che non ho capito male, io ho proprio copia e incollato quello che c'è scritto, quindi forse devi correggerlo. Poi lo correggerai, come la questione di Google. Se mi leggo esattamente, possiamo correggere insieme e vedere cosa c'è. Sì, se vuoi posso condividere proprio lo schermo. 10 Investor Club, un sindacate che investe in aziende early stage, ha finanziato oltre 10 start-up, tra cui società di intelligenza artificiale, dispositivi media. Fammi vedere, per favore. Aspetta, aspetta. Ce l'ho qua. Devo cercare quel lunghissimo testo, perché l'avevo messo su articolo Word. Internex Investor Club ha annunciato due investimenti al momento. Due investimenti? Vabbè, che tu hai detto, hai fatto a luglio. Quindi, cioè, è giovane come attività. E te ne abbiamo già fatti tre, però uno, stiamo aspettando la press release ufficiale della start-up. E fino a quel momento non possiamo annunciarlo. Quindi due ne hai fatte, diciamo, tu, cioè due ne hai fatte lui e dieci in totale. Lo devo trovare questa roba, mo' con te, live. Non riesco a... Aspetta, aspetta che... Un sindacate. Si investe insieme, io investo. Sì, sì, sì. E porto dentro, altre persone vogliono investire con me. Sì, sì, certo, certo. Un sindacate. Poi, tra l'altro, per essere, lo spiegavi anche tu, devi far parte di un sindacate, quando spiegavi che dovevi investire almeno un tot, fa parte di un sindacate, non so perché. Dovrei... L'hai letta quella parte che io ti dicevo che in realtà investire anche 300 euro su Mama Crowd, uno poi si sentiva... Io non l'ho mai detta questa cosa. Forse sei confuso. Io ho detto questa cosa di te? Sì, nell'intervista con Later, diciamo. Ah. Hai detto che, insomma, io... Tu non rispondi alle mie domande perché io non ero in modo di capirlo. Ti sei sentito preso in causa? Beh, certo, parlavi di me in quelle interviste che parlavi, scusa. Io parlavo... No, io parlavo di persone che hanno parlato di me senza sapere chi sono e senza sapere che lavoro faccio. Se tu ti sei sentito preso in causa su questa cosa, magari devi rivedere tu quello che hai detto. Io non ho detto che tu hai detto questa cosa. No, era proprio coerente. Se uno va a rivedere il video, tu parlavi. Prima mi dicevi che era un imbecille che urlava e che non capiva le tue risposte. No, io ho parlato di varie persone. Ah. Ok, se tu ti sei sentito preso in causa per queste cose, magari fatti un esame di coscienza... Cioè, il mio nome e cognome è Bippato e tu subito dopo... Dicevi, io non posso rispondere a uno che dice che puoi fare l'engine investor, quindi non lo so, ti riferivi a un altro che evidentemente era molto simile, diciamo, a me in quel contesto. Non lo so. Comunque, scusami, io dovevo prendere quel tuo articolo dove scrivi questo fatto. Sono le persone che mi criticavano senza... e non ce n'è solo una, ce n'è più di una. Ah beh, certo, ne hai avute un bel po', ma questo è normale, fa parte del gioco, no? Tre o quattro, non è che sono diecimila. Tre o quattro. No, però sono tu. Però se mi ho preso in causa, magari dovresti rivedere te quello che scrivi, perché magari non hai scritto cose corrette o hai fatto insinuazione... Eh no, dimmi, dimmi, secondo te cosa ho scritto di non corretto? Qui sono aperto, dimmi, secondo te cosa ho scritto di non corretto? No, niente, io ho solo detto, fatti tu un'analisi sulle cose che hai detto, se ti senti preso in causa, altrimenti... Ma se io dico, se io dico, Federico Pistone è un truffatore, ok? E tu non sei un truffatore, però tipo, Federico Pistone è un truffatore, è ovvio che tu ti senti preso in causa, ti ho fatto nome e cognome, o faccio un riferimento chiaro diretto a te dicendo che tu sei un truffatore e tu ti senti preso in causa, no? Ti l'ho fatto? Ti provi? Quindi, che cosa tu l'hai fatto? Sì, era chiaro, diretto a me, comunque, beh, mi dici che non ti riferivi a me, tutto a posto, abbiamo chiarito, non ti riferivi a me, ti riferivi ad altri che hanno usato questo fatto del dire che in realtà anche investendo 300 euro su una piattaforma di crowdfunding ti puoi dire in giro l'investo, che ovviamente è una cazzata su questo, concordo con te. Qualcuno l'ha detto, eh? Non è che me lo sono inventato, qualcuno l'ha detto. Ma Federico, ma questo è... Cioè, di gente che dice cazzate, il mondo è pieno e ce ne sono anche tra quelli che mi seguono, eh? Come penso ci sono tra quelli che seguono te. Tu magari qualche volta leggi dei commenti e dici, minchia. Ma questo è come è uscito di questo commento. Va bene, ma quindi hai detto, la prima startup me l'hai citata, me ne citi altri due, per mia curiosità. Scusa, tu fai un'attività di ricerca, giusto? Sì. Ok. Ma tu sai che ho un sito? Tu so che? Sai che ho un sito ufficiale io. Come? Fede online, a voglia. Sì, sì, ripeto. C'è un'intera sezione investimenti, gli investimenti che ho deciso di rivelare pubblici o che potevo rivelare pubblici. Quando l'hai messa questa sezione? Perché quando ho fatto io l'articolo non c'era. E' da settimane, forse da mesi. Ah, settimane. Vabbè, quindi dopo che ho fatto questa sezione. Scusami, non mi sono aggiornato con questa cosa qua. Tu lavori, fare ricerca sulle persone, fai dei live che durano un po' di me e non vai neanche a vedere il mio sito, cioè magari rivedi un attimo. Allora, Federico, perdonami. Allora, se dobbiamo fare, scortami un attimo. Perché io sono una persona corretta. Se tu pensi di essere più intelligente di tutti gli altri e di poter prendere in giro me e chi ci segue, hai sbagliato di grosso. E l'intervista poi si mette su un altro piano. Perché ti spiego delle cose. Io agisco sempre nel regime di buona fede. Questo, guarda, chiunque mi segue da anni lo può dire. E tant'è che ho sempre detto, io se faccio una live con chiunque, anche uno che mi ha dato dell'imbecille, come hai fatto tu, dell'incompetente che non capirebbe neanche le sue risposte, come hai fatto tu, io la faccio non perché lo devo distruggere, lo massacrare, devo fargli fare la figua del coglione. Lo faccio perché devo chiarire delle cose. Poi su alcune cose lui le chiarirà e altre no. Allora, se tu hai aggiunto questa sezione investor, settimane, mesi, sei sempre impreciso. Prima dici sul tuo, un po' vago, un po' vago. Dici, io ho investito, se la gente si chiede come possono quasi trentenni aver investito tra decine o centinaia di migliaia di euro. Ora, sei ragazzo intelligente, sai bene che tra l'avere investito 30-40 mila euro e l'avere investito 3-400 mila euro, c'è una differenza, no? Quindi tu più o meno, lo puoi dire o è un segreto? Cioè, quanto hai investito? Io lo direi come investor. Quanto hai investito tu in totale nella tua vita di angel investor, visto che è il tuo corpo? Centinaia di migliaia di euro. Ecco, e qui vengono una domanda interessante, tutti mi hanno chiesto di farla, ma quindi tu mi dici, io questi soldi non li ho guadagnati con le cripto, giusto? Mi confermi? L'hai sempre negato, anzi, tu con orgoglio dici, io non ho investito in bitcoin, cioè non ho fatto soldi con bitcoin. La tua famiglia... Io ho detto che gli investimenti che ho fatto li ho fatti con gli euro che mi sono guadagnato con le mie attività come professionista, questo è quello che ho detto. Poi tu atti di consulenza. Hai capito male, chiedimelo, ma non puoi trovare a dire, per esempio, quella di prima, dei decine o centinaia. Non hai capito? Perché decine era il singolo investimento, centinaia sono tutti gli investimenti. Ah, ok, quindi tu hai investito centinaia. Ok, allora scusami, non ho capito io. Quindi tu hai investito centinaia. E vi dici, non li hai fatti questi soldi, hai accumulato queste cifre perché per investire, che so, non vediamo di una cifra precisa, 3-400 mila euro, a meno che tu non sia un pazzo, hai in banca almeno 3-4 milioni, hai in banca una cifra molto più alta, anche perché come tu spesso dici e sai, investire in startup vuol dire, che cosa, essere pronti a perdere quello che hai investito nel 90% dei casi, 9 volte su 10, no? Quindi vuol dire che tu hai un capitale importante. Questo capitale tu dici, io non l'ho fatto con bitcoin, non ho un'edità familiare, l'ho fatto da solo, con le mie consulenze, no? Perché ho lavorato, sono stato molto ben pagato, nella tua live dicevi anche decine di migliaia di euro a consulenza, ma a tal proposito hai qualche azienda di preciso che può confermare, tu citi Google, citi Lufthansa, per quanto tempo hai lavorato per queste aziende e con che ruolo? Perché non si capisce, con che ruolo precisamente? Hai qualcuno che potrebbe referirti, cioè dire, ok, non è referenza perché Pistono ha lavorato nel nostro dipartimento per sei mesi ed è vero. Ce l'hai qualcuno che lo può attestare? Sì, certo, ma prima vorrei fare un attimo chiarezza su alcune cose. Tu fai un sacco di presupposti che non è detto che siano veri. Adesso hai fatto un altro presupposto sulla mia vita, senza sapere niente della mia vita e senza neanche aver letto quello che ho scritto. Quindi in realtà il 99% delle risposte alle domande che tu fai, ce le hai già, basta fare un attimo un lavoro serio di ricerca. Questa qui, che hai detto adesso, c'è nella mia pagina About la lista quasi completa di tutti i lavori che ho fatto e di cui posso parlare pubblicamente, con dettaglio anche cosa facevo. E dillo, dillo qua, dillo qua, non mi mandare a... Dillo qua, dillo qua. Per esempio Germano, in Google ho lavorato sei mesi con questo ruolo, dillo. Poi c'è anche sul sito, ci lo andiamo a vedere. Però ovviamente, come diceva Giulia, io non è che devo aggiornarmi tutti i giorni sul tuo sito, cioè al momento in cui ho fatto la mia inchiesta e ti ho fatto le domande, delle informazioni non c'erano. Così come hai corretto la questione di Google. Tu avevi scritto 97, ti abbiamo fatto notare che 97 Google ancora non è nato, tu l'hai corretta dopo, non è che io però posso aggiornarmi, no? Ogni volta siamo qui in live anche perché tu mi puoi aggiornare. Io ho accetto che tu mi aggiorni. No, mi sto rispondendo però, cioè io ti ho fatto parlare e tu mi fai parlare. Ok, dillo, dillo, vai. Ti mi dici di Google e Lufthansa cosa hai fatto? Posso rispondere? Vai, vai. Sì, io sto rispondendo. Hai fatto una premessa prima, hai detto, se tu hai investito qualche centinaia di migliaia di euro, vuol dire che ne hai milioni in banca. Tu mi dici no, non è così. Questa premessa da dove arriva? Arriva da un principio di buonsenso che qualunque investitore professionale segue. Poi se tu sei... Quindi tu hai verificato questa cosa. Sì, perché li conosco. Tu sottolvi sempre, sono interlocutore. Li conosco e investo anche io. Io ho investito 40.000 euro in startup l'anno scorso e non avrei investito 40.000 euro se avessi avuto 40.000 euro in banca. Benissimo. Conosco investitori professionali, incubatori, venture. Conosco il tuo settore, Federico, molto bene. Dal 2012 lo conosco. La prima startup l'ho fondata nel 2012. Quindi mi rispondi sull'Uftanza, per esempio. Dove hai lavorato? Eh, rispondi, vai. Hai ragione, hai ragione. Sulla prima domanda, vai. Rispondi su come hai fatto questi soldi. Sono curioso. Ti lascio... Parla, 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 parla. Magari con, no, un po' meno spazientito, visto che ti sto dando il mio tempo. Dai, Fede, dai. Hai ragione, dai, parla. Grazie. Ok. Hai detto che sicuramente avrò 3, 4, 5 milioni in banca, quello che è. Non è vero. Se tu avessi letto questa cosa che ho scritto, cos'è che era? Il, sul mio blog, 14 dicembre 2020. Quindi sono abbastanza... Eccolo qua. Dico, perché ho deciso di investire in startup? Quando ho preso la decisione di diventare un angel, ho fatto un ragionamento molto logico. Mi piace lavorare con le startup. Penso che siano il futuro dell'economia. Non volevo continuare a fare consulenze ai grandi aziende. Lavoro onesto, stimolante, ma non fa per me. Mentre lo facevo, non sentivo il fuoco dentro di me. Ok, però... No, scusa. E se no, andiamo per le lunghe. Come le fatti sti soldi? Guarda, è una frase, se posso. Vai, vai. Ok. Non avevo la sensazione di lavorare a qualcosa di nuovo ed eccitante che avrebbe cambiato il modo in cui viviamo. Così ho fatto questa scelta folle. Ho deciso di investire i soldi che stavo guadagnando in attività che, se tutto fosse andato bene, avrebbero dato ritorni dopo 7 o 10 anni e che quasi certamente sarebbero fallite. E se perdessi tutto? Se tutti i miei investimenti fallissero? Ma le start-up per un anno percentuale di insuccesso è il 99%? Certo, è possibile. È un rischio. Può sembrare roba da pazzi e forse lo è. Ma solo chi è disposto a rischiare può avere un grande impatto. Quindi la tua risposta è, io ho lavorato per queste grandi aziende, ho fatto diverse consulenze e cose di diverso tipo. Quella più lunga di cui posso parlare pubblicamente è con Hyperloop, che è un contratto che è durato, che sembra, 7 mesi. Ok? Sì, però quello è un progetto, conferma, mi pare che Marco Camisani vide che è un progetto che non è mai partito, alla fine, veramente. E lui quindi ha parlato con le persone con cui ho lavorato io, giusto? Così scrisse, Marco. Così scrisse. Evidentemente non sa di cosa sta parlando. No, quindi negli questa cosa, tu dici, ok, ok, smentisci questa cosa. Hai parlato con il sì, io di... Io mi hanno risposto, non so se tu l'hai letto, mi hanno risposto col profilo di Bibop Cresta, dicendo che tu effettivamente hai collaborato con loro, al che ho chiesto. Scusate, abbiamo capito che ha collaborato con voi. Ci chiarite per quanto tempo e se il progetto è mai partito? Perché da Camisani io so che non è mai partito. Non mi hanno più risposto. Si saranno scordati, avranno avuto altro da fare. Però... I più importanti da fare, ma se tu... Scusa, non insegnarti a fare il tuo lavoro, ma se tu fai il lavoro di ricerca, cazzo, chiama qualcuno lì e senti. Con chi ha lavorato Federico? Chi c'era nel team? Hai provato a sentire l'assistente del CEO, per esempio, con cui io ho lavorato per sei o sette mesi a fianco, costantemente? Hai provato a sentire l'assistente? Ti posso spiegare una cosa a base, una regola a base del giornalismo in chiesa. Allora, se io ho una fonte molto attendibile, in questo caso il citato Marco Camisani-Calzolari, che tu... È una fonte attendibile. Non lo è? Non lo è? Forse tu non conosci... Eh, ma se lui scrive... Ma questo qua ha detto che non facevo l'Angel Investor e non ha neanche provato a chiamare una delle startup dove aveva investito. Come fa a essere una fonte attendibile? Ha detto che... Ha contattato l'Angel Growth. Ha contattato. Perché non c'erano scritte. Quando lui ha fatto... Vedi, la stiamo buttando in caccia. Quando lui ha fatto quelle domande a ti, tu non le avevi pubblicate alle startup. E lui non ha detto che non lo facevi. Ha detto... Io ho chiamato lo IAG, lo IAG, e lo IAG, cosa che Marco fa, e lo IAG mi ha detto, guarda, Pistono è tra i nostri investor, ma per entrare basta pagare tipo 2500 euro più una quota o una tantum e fine. Che è la verità o sbaglio? Che cosa? Per investire quanto deve investire? Eh, per investire dipende. Tu l'hai scritto tu, l'hai scritto tu, 10.000 euro, mi dicevi, tagli minimi da 10.000 euro. Guardi cosa ha detto? Che mi sa, non mi ricordo cosa ha detto all'epoca, mi ricordo che però lui ha parlato con Hyperloop, sì, Fede, ma lui ha parlato con Hyperloop e Hyperloop gli ha detto, guarda, il progetto, noi l'abbiamo avuto, Federico l'abbiamo anche pagato, ha fatto la consulenza, questa cosa l'hanno ammessa e lui l'ha riportata, ma il progetto non è partito. Anche con Unipegaso, stessa cosa, Unipegaso ha detto che ti ha affidato un progetto per un periodo di tempo, limitato, e poi è finita. Allora, anche questa era curiosa come cosa, tu, perché tu lavori per poco tempo per diverse attività, curiosa ma non che è brutta, è curiosa nel senso che incuriosisce. Come mai, non che sia una cosa negativa o illegale o immorale, era per capire tante micro esperienze che durano poco, almeno da quello che si è visto dal tuo curriculum, cioè l'esperienza più a lunga che ha avuto come lavoro in consulenza, qual è stata? Questa di Hyperloop, di sette mesi. A me la consulenza non è che piace tanto, però, scusa, volevo capire qual è il problema. Se uno sta, diciamo, cercando che cosa gli piace fare, è strano che faccia lavori diversi. In che senso? Non ho capito. Perdonami, forse sono scemo io come dici tu, ma in che senso? In un periodo di scoprire cosa ti piace fare nella vita. È strano che l'ho sei mesi di qua, tre mesi di qui, cinque mesi di là? No, non è strano, non è strano, però sono esperienze che tu hai fatto anche dopo i trent'anni, a trent'anni, quindi eri già abbastanza cresciuto, non eri più un ragazzino di vent'anni, ma ripeto, non te lo sto contestando, va benissimo, anzi è bello che tu hai cambiato, va benissimo, però... Ma poi scusa, questa roba del progetto che non è partito, ma tu hai mai lavorato per un'azienda che valeva, non so, più di 200 milioni o che faceva più di 100 milioni di fatturati? Sì, ho lavorato per una multinazionale olandese che si chiama Corio. Ok. E lì dentro tu non hai mai visto dei progetti che magari ci spendevano anche un bel po' di... Ma anche nella mia azienda questa qui che è molto più piccola non fa, fa 7 milioni e mezzo, ci sono dei progetti che partono, ok, li vogliamo fare, facciamo un test, poi non vanno, si chiudono, cioè, per questo però mi dicevo, tu andrò la domanda, scusami Fede, tu andrò la domanda, se vuoi rispondi io mi taccio e rispondi tu. Quindi, i soldi che tu, questi centinaia di milioni di euro, non ti sto chiedendo il tuo conto in banca adesso, questi centinaia di milioni di euro che tu hai investito in aziende, tu pubblicherai un elenco, se non c'è già, che se no mi cazzei, dici che io non l'ho visto, non l'ho già già, se non c'è già, pubblicherai questo elenco con i nomi delle aziende e quanto hai investito, come ogni investitore farebbe e in più... Come ogni investitore farebbe, vedi che fai un sacco di... Io lo farei, io lo farei, qualunque... Scusami, ma un investitore te lo chiedo e tu non lo sai dire, ma perché è un segreto? Non capisco, cioè se no te c'è un segreto su questa roba. Tu dici che conosci molto bene il mio ambiente, ma dici un sacco di cose dove non si capisce... Non si capisce... Giustamente Andrea ti chiede, qual è la società che ha fatto Aipo? Visura del round 800k dove c'è il tuo nome come maggior quota partecipativa, numeri, dati, non loghi sui blog. Vedi, la gente poi tende a non fidarsi, ma non perché io so cattivo e ti odio. Fai una domanda per volta perché se no andiamo a cazzo. Fai una domanda per volta. Sempre uguale. Allora, questa qua è la domanda. Visto che qua non hai saputo rispondere, rispondi a questa. No, 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 io posso rispondere a tutto, però me ne devi dare una domanda per volta e devi darmi il tempo per rispondere. Ok, però io te l'ho dato, tu sei preso tre minuti per raccontarci la storia della tua vita di quando tu non sapevi cosa fare. Allora, non mi dire quanto hai guadagnato, non vi lo sapete quanto hai guadagnato. Per quanto tempo hai lavorato in Lufthansa e con quale incarico e chi ci può confermare che tu hai lavorato lì. E non mi dire vatterà a cercare tu, perché io lo posso anche fare come l'ho già fatto, però se me lo chiedi tu è meglio, no? Se a me me lo chiedi io te lo dico, non è che ti dico vatterà a cercare. Quindi, cosa hai fatto in Lufthansa? In Lufthansa ho fatto una consulenza molto breve dove loro avevano un, ma l'ho anche scritto questa cosa, volevano una sorta di masterclass su qual era il futuro della loro industria, insomma, lì l'ho fatta, è durata qualche giorno e ho fatto questo lavoro per Lufthansa, come ho fatto anche per altre aziende. Alcune sono durate tre mesi, alcune sono durate due giorni, alcune sono durate sette mesi. Ma non... Allora diciamo, queste consulenze, allora per chiudere la prima domanda alla quale così rispondiamo, ok? Andiamo avanti. Quindi tutte queste micro consulenze, micro intendo per tempi, ok? Non per qualità o soldi che hai preso, ti hanno permesso di accumulare una cifra tale, che non andiamo qui a indagare, che ti ha poi permesso di fare l'angel investor professionale, diciamo, comunque quello che vive di questo. Giusto? Correggimi, ho detto fin qui è giusto. E quindi queste, queste tue esperienze di consulente molto ben pagato, come tu tra l'altro hai già scritto, ti hanno permesso di poi avere tanti soldi da parte per investire centinaia di mila di euro nelle aziende. Ora questa domanda di Andrea te la posso fare e tu magari non rispondere adesso, ci dici dove possiamo trovarci questi dati, come si chiama? Cosa? Posso rispondere tranquillamente a questa domanda. Vai, questo è interessante, credo anche per te rispondere, sì, interessante. Dici, ti ascolto. L'azienda si chiama Arctic Bioscience ed è andata in IPO il mese scorso su Euronext in Norvegia da 70 milioni di euro. Ok, questa è l'azienda, quindi hai detto il nome dell'azienda, si può verificare. Comunque Marco Camisani dice che lui ha parlato con Gabriele Cresta che è suo amico da 30 anni. Per questo io mi sono permesso, so che tu vuoi insegnarmi il mio lavoro, ma mi sono permesso di considerarlo affidabile perché Marco è affidabile e non scrive Tregnacce, non è mai scritto. Vabbè, lo so che tu, l'opinione che hai mia e di Marco non è altra, però... dicendo che io rubo le citazioni e ha tagliato la parte in cui dicevo che la citazione era di Seneca ed è talmente ignorante che non sapeva neanche che quella citazione non era di un deficiente americano, Lombardo, Vince Lombardo, ma era di Seneca. Lui non solo ha tagliato la parte... Guarda, Calzolari non ha nessuna qualifica di rispetto per il lavoro che fa da quello che ha fatto lui nei miei riguardi. Io ho visto il lavoro che ha fatto, un lavoro molto approssimativo, a volte proprio sbagliato. Per esempio, ha detto che io non avevo investito dentro Iag, quando invece sul sito di Iag c'era la lista degli investimenti che avevo fatto di cui ero champion. Per essere certo di investire come minimo 20-30 mila euro e ce ne avevo due lì, quindi come minimo ho investito 40, 60, 70, 100 mila euro. Lui ha detto che non avevo investito un cazzo, non c'era nessuna prova che avevo investito, c'era solo la prova che facevo parte Iag. Mi ricordo che tu rispondessi con un video dove c'è stata, però... pubblica le robe che non sa neanche fare una telefonata o leggere una pagina web. Che cazzo di credibilità ha? Ma non farmi... Ho capito, però se lui dice che è amico da 30 anni con Gresta e te lo può confermare, parlalo, e che ha parlato con lui, ti invito a questo punto, cioè, stai dicendo... Cosa gli ha detto? Cosa gli ha amico da 30 anni con Gresta? E cosa gli ha detto? Che il progetto non era partito. E che... E avete lavorato e che tu metti ancora questo progetto e non è partito come cosa importante del curriculum. Dico, ma non c'è... Io ho un'azienda che vale un miliardo per 6-7 mesi come capo di un'intera area. Se poi il progetto non è partito può essere per milioni di ragioni di cui non possiamo discutere perché c'è il segreto professionale. Ok, ok. Che cazzo c'entra se è partito o no? E poi cosa vuol dire partito? Abbiamo fatto 10.000 incontri, siamo andati a Davos, abbiamo parlato con presidenti, abbiamo parlato con... Guarda, tu non hai idea di quello che c'è dietro. Che cazzo vuol dire che non è partito il progetto? Ma perché non è partito quello vuol dire? Comunque, allora, tu hai altri 10 minuti che mi hai detto che purtroppo, vedi, ci sono quasi 600 persone connesse. su me è il tuo interesse che rimane finora e poi trovate a dire su tutte le cose che invece sono successe. Quindi io non capisco che cosa ci avete in testa. Va bene, Federico. Vogliamo un attimo parlare? Ok, penso che ti ho fatto dire quello che volevi dire, ma quindi abbiamo capito che sono delle fatti così tutto a posto. Volevo capire però l'esperienza di sostanza mentre è stata breve, durata qualche giorno ho fatto una consenza là, ma parliamo di una roba che a me interessa molto, che tu citi anche nella tua chiamata con Tommaso, il tuo hater che poi è diventato un tuo fan, è diventato quasi un hater mio e un fan tuo. Il tuo best seller, perché ho preso una chicca, ho trovato una chicca incredibile che magari andiamo a leggere, in un articolo dell'Huffington Post si dice che Larry Page ha letto questo tuo libro e lo ha recensito positivamente sul Financial Times, in realtà anche sulla pagina Wikipedia. Hai fatto un articolo dell'Huffington Post, magari hanno sbagliato a capire anche loro, non lo so, ma hai scritto. Hai fatto confusione. Se vuoi ti dico come l'è. Ho capito, ma c'è scritto sull'articolo, non ho fatto confusione io, amico mio. Ok, ok, dimmi, dici com'è andato, fermi pensando che l'articolo è lì. E di quello che scrivo, quello che fanno gli altri, non hai mica col bambino. Vabbè, non sei responsabile. Ok, tu hai detto in quella là, correggimi se sbaglio, in quella chiamata, diciamo con l'hater, che in realtà il presidente di Google Play ti aveva contattato perché Larry Page, incuriosito dare recensioni positive del tuo libro, lo sto stitizzando, no. Lo voleva leggere, ma non era su Google Play, non hai detto questo. E cosa, com'è andata questa questione di Larry Page? L'ho presentato tu adesso. No, c'è scritto lei, cosa mi ha dato io adesso, scusami? Le recensioni, incuriosito le recensioni. Per cosa le ha chiamato Larry Page? Aveva sentito, cioè, era venuto a conoscenza di lui. Scusami, poi lo intendevo, le recensioni su altri libri, su altri autori, c'è un tuo, credo che tu lo conosca, che si chiama Piero Scaruffi. Risponderti, come è venuto? Esatto, come, scusa, rispondi. Come è venuto a conoscenza, questo non lo so. Io quello che so è che un giorno ricevo un'email dal presidente di Google Play che mi dice, questa mattina, nel meeting strategico che abbiamo fatto con tutti i grandi capi, Larry parlava del tuo libro e mentre ne parlava qualcuno ha detto, eh ma non è sul Google Play? E lui fa, come no? Chiamate subito Pistono e chiedetegli cosa devo mettere su Google Play. Ok. Poi l'hai messo su Google Play, scusami, non l'ho verificato. L'hai messo su Google Play. Ok, quindi, ma l'ha letto Larry Page, che tu sappia, l'ha letto sto tuo libro, Larry Page? Ma mi ha richiesto una copia firmata e mi ha dato l'indirizzo di casa sua e di sua moglie e gli ho mandato una copia. Ma tu hai, cioè te l'ha richiesto lui personalmente, perché questa è una cosa fighissima, cioè io potrei solo essere contento se hai un ragazzo mio, coetaneo, italiano, c'è una roba del genere, ti assicuro, non proverei alcuna invidia, ma hai una prova di questo, cioè una mail, una comunicazione che puoi far vedere. Ok, la mostrerai se non qui in un secondo momento se te la dovessero chiedere. Io la mostrerrei con orgoglio, io la mostrerrei con orgoglio, cazzo, cioè mi contatta Jeff Bezos, mi contatta Giorgio Simeone. Scusami, perché non... Puoi fare una live dove faccio vedere comunicazioni private che io ho col presidente di Google Play. Ma perdonami, perdonami, perché è privata? Lui ti dice, mandami il tuo libro, cosa è privata? Tu hai fatto un sacco di interviste, foto, con Diamandis, che ti piaceva l'endorse. E quindi perché non si può fare un mondo di questa gente, miliardare, gente che si è fatta da sé, cioè c'è una cosa chiamata, non so, rispettabilità, c'è una cosa chiamata buonsenso. Pubblicare... Ma non lo puoi dire, perdonami Federico, io non l'avrei detto. Io sarò provinciale, non sono uomo di mondo come te, ma non l'avrei detto. Ma tu sorridi, ma guarda che tanti si chiedono di questa cosa. E poi tu conosci Piero Scaluffi, tuo amico, non immagino. E infatti ho visto, ho detto, tuo amico lo conoscerai, no? Ha fatto una recensione del tuo libro. Eh. In inglese ovviamente, che lui è di origine italiana. Piero è una delle menti più fine che... Confermo, ti confermo, mi sono letto il suo blog e tu l'avrai visto, il suo sito è una roba che è rimasto graficamente al 99. Il tuo nome è uno dei primi siti internet del mondo ed è anche esattamente come l'aveva creato. Si vede che è un sito fatto nel 96, probabilmente, nel 97. Perché la grafica è quella. Adesso la condivido così, vediamo giusto la grafica per far capire. Aspetta, aspetta, che la voglio condividere, che è un po' un amarcord, diciamo, di archeologia. Però è una persona che ha una mente enorme. Cioè, ho visto quanti libri ha letto. Il tuo libro l'ha recensito, ha fatto una recensione che non finiva più. Ha speso delle buone parole per te. Lui dice, anzi, a differenza di tanti libri futuristi, catastrofisti, Pistono, tra l'altro, nel 2012, parliamo di dieci anni fa quasi, quindi eri giovane, di 25-26 anni, è ottimista e già solo per questo io consiglio il libro, di leggere il libro. La visione panglossiana. Panglossiana, sì, te lo ricordi a memoria, vedi? Te lo ricordi? Perciò dico, se Larry Page ti avesse scritto, lascia stare che, Piero, per quanto sia una colonna, non è Larry Page, per carità, però... Secondo me, Piero, a livello intellettuale, non ha nulla... Nulla di meno. Allora, guardate qui, ragazzi, questo è bellissimo. Cioè, questa è una roba meraviglia, questo sfondo così, che mi ricorda quei giochini... Ma guarda che... Scaruffi è una delle persone più rispettate in Silicon Valley, diciamo, da chi ci sta dietro le cose, dal lit. Lui ha insegnato all'IBM a fare intelligenza artificiale, tipo, prima della AI Winter degli anni Ottanta. Lui lavorava alla Olivetti e poi è andato in Silicon Valley a insegnare agli americani a come scrivere... Sì, sì, sì. Ha recensito questo tuo libro, non assolutamente un personaggio di tutto rispetto, ha recensito questo tuo libro e dice questo e poi fa degli appunti sul tuo libro e secondo me è vicino ad alcune critiche che sono state mostre e lui dice guarda, ci sono le parti interessanti, poi però mi sembra, questo lo dice nella... Io l'ho letto e l'ho anche ritradotto, lo può fare chiunque, si muove le critiche che io avevo letto sui messaggi più critici, ma ripeto, in maniera... Cioè, è il loro ragazzo di 26 anni, 25 anni, per questo disse cazzo, un best seller sul futuro dove lui parla di 3.000 temi, allora è un genio, clamoroso, e invece lui dice guarda, ci sono degli spunti interessanti, però poi forse la critica che faccio è che si perde un po' e sembra questo più un libro di preparazione per una seconda edizione e la parte finale lui dice, no penso, ma lui te lo fa, come devo dire, lo vedo che è molto amichevole nella recensione, cioè non lo fa per stroncarti, lo fa perché anzi si percepisce che lui rispetta molto il tuo tentativo all'epoca e dice lo apprezzo perché ci ha provato, però insomma ti trova degli elementi di criticità e questo è l'elemento, secondo me ecco, è la parte che io avrei messo fossi stato in te maggiormente in evidenza invece del financial mind e del repay se tu vai sul libro c'è lui le pensioni di scaruffi è tipo una delle prime c'è lui con gli scaruffi però lui si trova in accordo con chi dice che appunto il libro comunque è incompleto e lui ti ha detto una cosa interessante che ho trovato dove ti contesta dice lui dice che la felicità dice Federico parla di felicità cosa che anche i grandi filosofi non riescano a fare per bene dice lui fa una battuta tant'è che ancora oggi si guadagnano da vivere parlando di felicità e lui dice che la felicità è connessa all'occupazione nel libro e alla piena occupazione e al lavoro ma non è vero no non ho letto il libro ho letto diverse parti anche quella dove tutti ci difesi cosa stai parlando quindi perché io non ho letto il libro non io leggo quello che ha detto scaruffi no scaruffi ha scritto una cosa corretta tu hai mal interpretato quello che ha scritto allora dimmi cosa ha scritto scaruffi poi ce lo possiamo andare a leggere tutti ok cosa ha scritto scaruffi tra l'altro il libro è gratuito si può leggere gratis online sul sito perché l'ho rilasciato su creative commons ok questa è una notizia interessante perché io invece lo vedevo ancora in vendita su Amazon in vendita ma anche disponibile anche disponibile lui scrive comunque questa cosa che quindi mi contestava solo una parte della statistica cioè diceva guarda che i paesi dove ci sono il più alto tasso di suicidi sono la Francia e il Giappone i paesi scandinavi sono paesi ricchi di piena occupazione quindi invece tu non dicevi questo nel libro e non dicevi neanche che Facebook sarebbe stata una moda passeggera se ti interessa discutere come come mi interessa che io allora innanzitutto sul libro io sono d'accordissimo con quello che ha scritto Pietro perché rileggendolo adesso mi fa sorridere perché insomma non ti fa sorridere quello che ha scritto dieci anni fa vuol dire che non sei cresciuto quindi ma a parte quello e sono d'accordissimo era una versione diciamo in preparazione di una vera magnus opus opus come insomma come viene fuori però c'erano degli spunti che alcune persone hanno ritenuto interessanti ok scusami non ti confondere io ogni tanto prendo queste cose e dire che sono io che interpreto male scusami continua continua allora io nel libro non ho scritto quello ho scritto che innanzitutto sulla parte della felicità e ti consiglio di leggerlo perché tra l'altro è anche gratuito quindi puoi leggerlo senza no ma io l'ho anche ho comprato quello di Cosentino per dirti cioè non è che ho problemi a comprarmi un libro quindi potrei comprare anche il tuo ma dire che chiunque se lo può leggere gratuito sì perché io credo in questa cosa ok allora possiamo se vuoi tu ti leggi quello ci facciamo una conversazione ma era abbastanza di fino perché dicevo che la ricerca che c'è scientifica riguardo alla felicità dice che l'unico risultato hard che abbiamo a riguardo è su quanto uno guadagna rispetto a il suo life satisfaction che non è la felicità è la soddisfazione nella vita nella vita che non è collegata direttamente alla felicità cioè la correlazione sufficientemente alta molto alta che sopra un certo limite sopra una certa soglia tu anche se guadagni di più non cambia il tuo livello di soddisfazione questa è una cosa nota si diceva sui 7000 dollari mese mese era questa soglia di felicità sono le teorie sì ma chiudiamo con una cosa Federico tu se devi andare via a me fa piacere se tu vuoi rimanere un altro po' però una cosa vorrei chiudere con te nel tuo interesse anche le tue aziende al momento io ne avevo viste due quella Estone Exponential Thinking che però non ha bilanci o meno io all'epoca non c'erano bilanci 2019-2020 è quella italiana di true SRL come deep deep perdonami perdonami ho sbagliato non è true è pensiero non è attraverso ho detto invece io mi ricordavo sì sì profondamente attraverso invece no è pensiero profondo quindi pensiero profondo SRL in italiano e pensiero esponenziale Estone che numeri fanno e hai dei dipendenti oggi tu ti senti imprenditore oggi oggi si senti imprenditore e per te che cosa è un imprenditore ma io sono principalmente un angel investor poi adesso siccome ho questo club ho anche una piccola attività imprenditoriale ma principalmente io faccio angel investing e lavoro con le start up dove ho investito quella italiana ormai l'ho chiusa e semplicemente è anche aperta perché la burocrazia italiana è lentissima l'ho chiusa da due anni quindi l'SRL la possiamo diciamo non consigliare più è che l'italiana cioè ciao e adesso io mi sono andato a vivere in Estonia questa Estone corregimi se sbaglio è collegata alla tua attività di Maverick e immagina le consulenze che fai no io non faccio più consulenze non fai consulenze quindi tu adesso vivi di Maverick per la parte del tuo club diciamo quindi come primo come revenue stream c'è Maverick e poi dagli investimenti che ti hanno ti hanno fatto questo rendimento ti va di rispondere a questa domanda sono molto interessante di Andrea Esquilini che dice un lead investor copre almeno un lead perché tu dici sei stato lead investor copre almeno la metà del round 800k di round vuol dire che hai messo almeno 300 400 mila euro per essere lead possiamo vedere una visura tu prima hai fatto il nome ce lo vuoi ripetere così ce lo andiamo a vedere e questa penso sia un'ottima prova per te bella soddisfazione no? Camom abbiamo fatto un round che era la seed round il primo diciamo da 800k euro dove lead era il syndicate che ho creato insieme a Roberto Montandon che è il mio co-champion a Yag e tra il syndicate io ero il lead investor perché è quello che ha messo più soldi di tutti ok quindi questo dobbiamo andarci a vedere le visure di Camom diciamo dai perché la startup e tu hai citato più volte ce ne citi un altro paio così visto che ce ne sono diverse un altro paio interessanti che possiamo andare a vedere magari fai anche pubblicità no? ci stanno seguendo ti sono contento che mi dai questo pubblicità che fa bella pubblicità quindi come on ce l'andiamo a vedere tutti quanti poi thank you x è un'altra dove sono champion è molto aspetta fammi scusami perdonami come è precisamente ma guarda che puoi andare su fede.online slash ah ok bravo allora aspetta aspetta facciamo prima fede.online bravissimo fede.online slash investor invest invest scusami ok invest una lista completa di quelle di cui posso parlare pubblicamente e che c'è insomma sono le startup dove ho investito eccolo qui ragazzi andate qui e vi andate a vedere tutte le startup dove Federico questo mi dovresti dare dei soldi però Federico perché qua ti ho fatto pubblicità poi ci accordiamo fede.online.invest ve le andate a vedere e sono qui fede se tu hai altri cinque minuti vedo se ci sono altre domande altrimenti direi che serve un confronto con Marco Camisani cinque minuti che cosa? cinque minuti ce li hai? ce li ho appena chiesto qui alla padrone di casa ah ok ti capisco capisco cosa vuoi dire allora qui c'è un commento in tuo favore posso confermare che Pistono parlava di Ethereum quando nessuno lo conosceva quindi già è top per me ma tu ci hai investito in questi Ethereum e ci hai ricavato qualcosa Ethereum beh allora io come ho detto crypto ne ho prese poche però le ho prese qualche finale fatta però non ho mai convertito ah non ho mai toccato cioè ma io addirittura ho minato bitcoin nel 2011 con il mio laptop e poi ho comprato anche 2011 ho preso un miner e mi sono minato il bitcoin nel 2011 2012 ok ok forse uno dei forse ho trovato il community manager di Ethereum a una conferenza dove ho tenuto a cos'è che era a Barcellona e mi ha detto che io ero stato una delle prime non so dieci persone al mondo ad aver acquistato Ethereum perché avevo incontrato i fondatori a New York quando vivevo lì e loro facevano questa raccolta non si chiamava ICO perché non esisteva Ethereum non esisteva ICO certo certo e io avevo investito ma era sta roba Federico che sei tornato benestante con Ethereum quando ero una start-up non so questa ce la spieghi cioè che io non ho capito bene cosa hai intendo lo so forse tu hai capito ne ho presi avrei voluto prenderne molti di più sinceramente no? sarebbe bello eh sì però però è stato sì una delle prime dieci persone al mondo forse cento persone al mondo a prenderlo soltanto nel primissimo batch quando hanno fatto la 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 prima raccolta che hanno raccolto insomma pochissimo senti mi gioco gli altri due minuti che ti ha concesso mi gioco scusami gli altri due minuti che ti ha concesso la padrona di casa per farti una domanda secca quindi un po' alla Barisoni no? mi suggerivano numero dipendenti ce li hai fatturato è utile fine 2020 c'erai questi dati della tua azienda Estone per capire per farci idea sul sito della cosa adesso saprai non ti ricordi no perché io c'è tu però un'altra cosa è che tu dici che sono vago sono cose dovete capire che io non ho una memoria perfetta su tutto cioè dovete io sono anche umano io mi ricordo le cose importanti se mi ricordo se un numero è dieci cento mille non mi ricordo se è settantanove ottantanue orientativamente te lo ricordo io sono me lo chiedi delle mie aziende io te lo so dire l'altro è ottantanue l'importante è sì però se tu dici Germano il numero della tua start up io ti dico settecentosettantamila euro 2020 zero dipendenti e bidda 220 mila me lo ricordo orientativamente tu non te lo ricordi di che cosa cosa ho fatto nel 2020 no 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 dipendenti delle tue aziende tu non ne hai dipendenti nell'azienda che ho adesso l'azienda che ho adesso un team adesso siamo in sette otto persone sette otto persone ma solo per capire non perché voglio fare l'agenzia le entrate per capire ma sono tuoi dipendenti o sono collaboratori perché anche quello capisce la strutturazione capisce quanto è strutturata l'azienda che lavorano a tempo pieno cioè ok quindi diciamo non sono assunti però quello insomma è va bene e invece scusami sul fatturato più o meno torniamo alla difficoltà burocratica che sto in azienda in Estonia e tu hai una persona che non vive in Estonia tu devi fare una nuova srl in italia per assumerlo lì perché insomma sono casini ma c'è lì però se decidi stai là ma scusami perdonami non ricordi il fatturato 2020 non ricordi il fatturato 2020 ne ho sei o sette persone ok ma non ricordi il fatturato 2020 quindi la tua azienda Estonia più o meno sarà stato mezzo milione o 600 mila 500k perché l'ultimo gara del 2018 era 115 105 mi ricordo se era 115 150 mi ricordo più o meno doppio ogni anno tipo 120 200 quindi è esponenziale è esponenziale qui l'anno prossimo un milione quando depositare faremo un milione il prossimo anno due milioni e poi 10 milioni e quindi però il core di questa azienda è Maverick cioè tu stai guardando con Maverick perché non fai più consulenze o fai anche non fai più consulenze ok quindi tu con Maverick stai scalando questa azienda questo club allora no non hai capito io ho fatto io ho fatto Angel Investor ok e ho fatto soldi con gli investimenti che ho fatto ok perché non ho solo fatto Angel Investor ho fatto anche altri investimenti investimenti nel mercato ho fatto investimenti bene adesso io ho anche questo club dove ci sono delle persone un club privato dove tra l'altro ci sono un sacco di persone interessanti con cui per esempio un ragazzo che era un ricercatore è ancora ricercatore all'università di Helsinki che dopo che è entrato nel club ha espanso un po' la sua visione ha cominciato a investire seguendo le mie lezioni e i miei consigli poi con quei soldi che ha fatto è entrato nel 10x Investor Club e ha cominciato a diventare Angel Investor e adesso lavorerà in una startup finanziata con milioni di euro e ha detto che questo percorso l'ha fatto grazie al club dove è entrato e come lui ce ne sono tantissimi ma è questo il motivo per cui ho fatto il club aiutare le persone a migliorare la propria vita personale e professionale in modo che i miei consigli che possono essere utili a qualcuno oppure non possono servire a nessun altro a quelli a cui possono essere utili possono avere un miglioramento tu dici voglio fare un club che possa ispirare guidare fornire degli spunti delle cose sulla base della mia esperienza ma non è solo fornire degli spunti sono di fatto è un percorso per me è un percorso professionale mio perché sto condividendo quello che imparo con le startup dove investo ok ok Fede abbiamo fatto scusami finisci questo finisci con le startup in cui investo startup dove investo e tante altre persone da queste lezioni traggono non solo ispirazione ma proprio una pratica da eseguire nel proprio business che poi li migliora il fatturato aumentano insomma hanno dei vantaggi e alcuni di questi investono con me nel club senti chiedevano quanto costa entrare nel club lo so che c'è già però ce lo dici al volo quanto costa entrare in questo tuo club se siete interessati a entrare nel club andate fate domanda perché siccome è un club privato dovete far domanda c'è un colloquio se superate il colloquio allora potete entrare nel club va bene Federico io direi che insomma credo che questa live abbiamo battuto tutti i record fin qui di Fufflix insomma questo per il tuo ego può andar bene come per il mio perché insomma abbiamo fatto ma cosa me ne frega il motivo dai ne frega ovvio te ne frega perché volevi spiegare chiari dei punti sicuramente questo è il primo motivo perché ho visto che non si risolveva niente quindi ho detto parliamoci così ci cariamo no? così ci vediamo un attimo in faccia ci parliamo chiaramente perché se ci si scrive non si risolve niente parlandosi spero che invece si possa fare chiarezza su alcune cose si può fare batti e ribatti e alla fine basta poi si fa un'idea sulla base penso che noi abbiamo avuto uno scambio è stato anche un po' teso in un certo momento perché ti dico Federico mi è sembrato che tu mi trattassi un po' da imbecille ma mi avevi detto sì da imbecille e quindi ho detto no non mi può trattare da imbecille Federico durante la mia live io invece ho notato che alcune volte tu facevi dei presupposti basati su delle cose che avevi letto male o che avevi letto che qualcun altro aveva detto senza verificare che fosse vero e mi sembra questo non lo accetto è una cazzata perdonami io non ho letto male nulla io ho letto che tu hai detto che hai detto ai tuoi genitori che Google doveva investire nel 1997 e Google non era nata neanche poi ho letto hai letto cosa ho scritto riguardo lo hai modificato e anche lì non ho capito neanche il senso l'ho rivisto prima non mi dire che non ho capito dai poi io fossi sì cosa ho scritto ho scritto che ti ringraziavo per avermi fatto notare poi che tu hai detto il 78 non mi ricordo il 97 effettivamente no era il 2001 perché il 97 è qua beh perfetto allora ti posso ti posso dire una mia opinione in chiusura tu hai preso per buono una cazzata che lui ha detto falsa non sono cazzate quale cazzata falsa scusa mi ha detto Calzolari perdonami quello di Gresta che non era partito il progetto me lo ha confermato anche adesso l'hai visto no perché lui no 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 la cazzata di Calzolari era che non avevo investito in coso poi tu hai detto Calzolari è una fonte attendibile e da lì hai cominciato a fare una serie aggiornamenti Calzolari non è fonte attendibile perché ha detto cazzate su di me senza verificarle ha detto che su un'Ipegas ho fatto due settimane di consulenza per parlare con una delle dieci persone il team che ho gestito perché ero a capo di un intero team di dieci persone e sono stato lì tre mesi quindi vedi che dice cazzate e non è capace a fare il suo lavoro e tu prendi per buono quello che dice lui ma non concordo con quello che dici perché non dice cazzate Camisani ha parlato direttamente con i responsabili di un'Ipegas no ha parlato con la segretaria che semplicemente ha letto cosa c'era scritto nella prima pagina del contratto ma non ha visto il lavoro fatto e non sa perché il contratto era scritto così ci sono delle logiche a cui non ha accesso la segretaria perché la segretaria non sa queste cose devi parlare con le persone doveva parlare non so col presidente con il rivolino che è quello che mi ha dato il lavoro mi ha fatto delle offerte ma magari lo farà magari Marco lo farà basta informarsi davvero non far finta di informarsi fare una telefonata alla segretaria dire ho avuto le informazioni che mi servivano così posso metterla in casa ti posso dire una cosa ti fa quasi un favore allora se è così non ti devi incazzare cioè non te la devi prendere capisco che uno si può innervosire però è quasi è quasi un assist io sono stato attaccato mi hanno detto che ero pedofilo quindi pensa un po' io che tipo di attacchi ho avuto no? cioè non è che ho avuto l'attacco Germano è un cazzaro Germano si inventa le palle Germano è un pedofilo quindi diciamo che siamo andati oltre ogni limite no appunto perciò dico quando tu dici haters e cazzo ragazzi haters forse non li avete mai visti cioè a me mi hanno fatto un sito mi hanno spammato ovunque ho subito stalking cioè ora qualche domanda magari anche un po' strozza come vuoi tu come dici tu ho strumentare dietrologie su tutto perché quando mi sono arrivati i tuoi attacchi che mi sembravano totalmente ingiustificati e che non capivo bene qual era il problema ho pensato addirittura non è che sarà che ne so sgarbi perché ho fatto il video dove dicevo ma che cazzo dici cioè il covid è una roba seria no? cosa dici la gente di non mettersi la mascherina di ribellare sì l'ho visto l'ho visto quel video ma infatti guarda ti posso dire una cosa così ci lasciamo la cerchiamo di fottere da dietro e sta pagando no? questo quello per dire contro di me figurati ma che me frega a me di mettere una roba delirante scusami Federico veramente poi chiudiamo perché io ti ho sempre riconosciuto anche quando ti ho aspramente criticato e anche quando ho fatto satira su di te che tu su una cosa sei molto bravo non soltanto su una ti dico su una cosa che io ho notato ok? non mi permetto di dire che sei bravo a fare una cosa sicuramente hai delle competenze delle esperienze parlare divulgare raccontare spiegare attrarre sei bravo quello che ti dice Andrea dice io ti seguo ogni tanto fai anche dei video carini secondo me anche più di carini sono dei video che sono molto interessanti se vuoi un consiglio smetti di dire certe cose fai il divulgatore circonda di persone che ti fanno capire come investire magari iniziando da Mamacraft che non c'è una di male fly down che magari crescendo crea anche qualcosa di vero e bello ovviamente capisco che tu adesso che cazzo dici però insomma te lo volevo condividere perché è un'opinione ok? è un parere di chi ti segue un parere di chi ti segue quindi è importante che tu lo veda ok? come cosa intanto io ti ringrazio per questo questo confronto è durato un'ora ringrazio anche la padrona di casa che sta lì che ti minaccia grazie a padrona di casa anche da parte di tutti noi grazie per il confronto quando vuoi te lo dico come te quando vuoi se vuoi ne possiamo fare un altro un secondo oppure chiudiamo qua e nel momento insomma hai esaurito le energie va bene va bene le mie farei insomma no no figurati ci sono tanti commenti che ho avuto modo di leggere ovviamente li potrai leggere tu i commenti sono tutti live non ne cancello nessuno se non quelli che evidentemente offendono o diffamano tutti i resti sono online quindi ti potrai leggere se vorrai potrai rispondere anche io ti ospito tu mi hai bloccato ma io ti ospito sul mio gruppo quando vuoi e poi rispondere allora se vorrai farlo se vorrai farlo intanto grazie per la live e per il confronto e buon lavoro e bocca al lupo ciao 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 ciao